Peugeot Partner è stato scelto dalla Scuola di Musica Ottava di Roma per il trasporto degli strumenti con cui i ragazzi tengono concerti per teatri e auditorium. D'altronde sono pressoché infinite le missioni che si possono affidare a un veicolo commerciale d'Italia adatta alle strade cittadine, dalle consegne door to door fino ai compiti per l'appunto più ricercati. Peugeot Partner 4,38 metri di lunghezza si apprezza per il volume di carico, l'agilità e le prestazioni grazie a un motore 1.6 HDI da 98 cavalli abbinato a un cambio robotizzato a 6 rapporti. I prezzi partono da 8.350 euro IVA esclusa con contributo di rottamazione.